Eccoci direttamente con gli outfit della serata ragazzi Siamo sempre puntuali nel nostro appuntamento con il video diario Esatto, noi ci svegliamo la mattina e il primo pensiero è sempre Cosa diremo oggi nel video diario? Fortunatamente oggi abbiamo un sacco di cose da dire Abbiamo passato tutta la giornata tra interviste, incontri con tante persone È stata una giornata molto intensa perché abbiamo incontrato un sacco di gente Che ci ha fatto sentire tutto il suo calore, addirittura cantando la nostra canzone Già sapevano il testo, sapevano il testo, non lo sappiamo noi Dobbiamo ogni tanto ripassarlo e loro lo sapevano già Siamo felicissimi ragazzi Per un cantante e musicista questa è una delle vittorie più grandi forse Oggi ci siamo esibiti Siamo a metà del percorso ragazzi, è solo la metà Stasera ci siamo esibiti con questo outfit Vi mostriamo quelle mie belle collane zarre, l'ammiraglio, l'uocenente Ci siamo diventiti molto e penso e spero si sia visto Ci hanno detto che sembravamo più sciolti Speriamo sia vero, dai Fateci sapere il vostro parere Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani con il video diario E senza farla apposta Ecco, senza farla apposta, già che siamo a Sanremo Ciao! Ciao!